Ma ve lo ricordate quando non c'era internet? Invece di Tinder c'erano i cessi dell'autogrill? Invece di Grindr c'era il seminario? No, voi non lo sapete, ma guardate, per un gay andare al seminario è come per noi andare all'olio can it. Cioè tu arrivi lì, il portone si chiude, cazzi con le ali. Fa, 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 ma com'è possibile? Io sui social, sapete, all'inizio ero un po' scettico. Su internet sono stato un pioniere. Primo modem l'ho comprato nel 1996. Per scaricare un pornazzo ci volevano sei giorni, quattro manovali. Poi lo aprivi dentro e ci trovavi la corazzata Potionchi. Sui social invece all'inizio pensavo, sai, se la gente non la sento da 15 anni, un motivo ci sarà. Saltato la fase MySpace. Invece su Facebook mi sono reso conto già da subito che c'era la possibilità di dedicarsi a quello che è il mio hobby preferito, ovvero offendere gli altri, naturalmente. Diciamo, io sto alla correttezza come Bebevio sta al modellismo. O alla datilografia. Mi diverto a fare incazzare i bacchettoni, a fare galleggiare allo stronzo. Sai il bacchettone di turno che arriva, spara il pippone, tipo Adinolfi. Avete presente Adinolfi, quel barile di merda? Il braccio bigotto del pedibale, il braccio, la spalla cotta. Voi non lo sapete, ma questi personaggi, tipo Adinolfi, Ferrara, con queste opinioni molto impopolari, vengono scelti di proposito, brutti e grassi, perché quando sparano le minchiate che sparano tu gli dici stai zitto panzone di merda e passi dalla parte del torto. È una tecnica studiata, Monte. È vera sta cosa. È una tecnica studiata. Che io dico, c'è sta cosa che se sei negro puoi fare battute sui negri, eccetera, eccetera. Chi stabilisce quando sei abbastanza grasso? Non devi essere abbastanza froscio, no? Allora dico, usiamo Adinolfi come metro di paragone, come standard internazionale, va bene? Obesità subadinolfiana non puoi fare battute. Obesità ultradinolfiana ti è permesso di fare battute. Scherzavo, non esiste uno più grasso di quel cetaceo di merda. Cazzo di pacchi d'erma. Che tu penserai, ma così offendi le persone sovrappeso. Ma l'idea era di offendere anche tutti gli altri! Una volta non c'erano tutte stemenate. Tu fai una battuta sui terroni, quelli si facevano una risata e ti rispondevano con una battuta sui polentoni che pippano sul telefonino mentre parcheggiano in seconda fila per andare alla pericena a fare falso in bilancio e turba ti va d'asta. Adesso quando pago la bolletta del gas devo stare attento a non offendere la comunità ebraica. Finiamola, veramente avete rotto il cazzo! Cioè qui c'è gente che pensa che per combattere il razzismo basti asportare la parola negro dal dizionario. Che sarebbe un po' come curare il verme solitario mangiando un altro verme così non è più solitario. E in questo noi persone di sinistra guarda mi ci butto dentro anch'io ah noi siamo emancipati non chiamiamo quelli di colore negri no usiamo una campanella appunto. Quando poi poco tempo fa ho sentito due miei amici gay descrivere un loro collega usando l'espressione una ricchionanza guarda infatti io ho detto va che t'ho sentito eh t'ho sentito ho tanti amici gay perché sono di Milano no poi facendo il tecnico Luci mi trovo spesso a lavorare per iniziative rivolte alla comunità omosessuale tipo il salone del mobile no dai basta battute sui froci dai basta vabbè l'ultima dai l'ultima sapete come si fa capire se uno è finocchio? vai da dietro senza farti sgiamare gli sussurri furtivamente nell'orecchio first I was afraid non è finocchio 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 non è finocchio